Siamo a Pesaro con la dottoressa Francesca Ferrari, pedagogista clinico e formatrice in disegno nirico. E con la dottoressa Stella Primari, pedagogista clinico, formatrice in psicodramma olistico, nonché presidente dell'associazione Violet. Di che cosa si occupa questa associazione? L'associazione Violet nasce dalla volontà mia e della dottoressa Ferrari per svolgere dei corsi che riguardano il disegno nirico. Sono dei corsi adatti a persone che laureate in psicologia, pedagogia o comunque in facoltà affini e servono per acquisire al meglio questa tecnica per poi utilizzarla nell'ambito del loro lavoro. E l'associazione Violet, oltre a questo, vuole anche sviluppare, sviluppa dei corsi e dei percorsi di crescita personale aperto a tutti. Il nome nasce perché l'associazione Violet è il viola. Il viola è un colore di evoluzione ed è il viola il colore dell'ametista. Quindi il lametista è una pietra proprio che riguarda l'evoluzione e il cambiamento e allora abbiamo deciso di chiamare questa associazione in questo modo. Invece con la dottoressa Ferrari parleremo del disegno nirico. È una tecnica molto affascinante che è stata messa a punto dai professori Alberto Bermolen e Maria Grazia Dal Porto, italo-argentini, da cui abbiamo avuto il piacere di poter apprendere questa tecnica. È una tecnica creativa che utilizza lo stesso linguaggio dei sogni, il linguaggio simbolico appunto, e attraverso questo disegno che si svolge in una maniera automatica permette di far emergere il proprio mondo interiore e anche di poterlo in qualche modo trasformare. Quindi quali sono i benefici per chi utilizza questa tecnica a incontrare il proprio mondo interiore? Certamente, incontrare il proprio mondo interiore, partendo dal presupposto che ciascuno di noi ha già in sé tutte le risorse per poter trasformare le sue fatiche in nuove opportunità. E questa è la logica di fondo che sostiene ogni esperienza che vorremmo proporre come associazione Violet. In particolare nel disegno nirico, questo tipo di disegno permette di far emergere i contenuti profondi, ma anche di trasformare in nuove opportunità di crescita per la persona. Quindi una nuova possibilità, una nuova evoluzione. Una nuova evoluzione, cercando di aiutare la persona nel permetterle di trovare nuove risposte e di stare meglio nella vita che ha scelto di vivere. Grazie per questo intervento. Chi volesse fare questi corsi e quindi conoscere un po' se stesso, può contattarvi? Certamente, ci può trovare tramite Facebook sotto Stella Primari Francesca Ferrari oppure tramite le nostre mail che è stellaprimari-libero.it Francesca Ferra, chiocciolaalice.it Inoltre i corsi verranno svolti in due città, verranno divisi tra Brescia e Pesaro e verranno divisi, proprio saranno 80 ore di lavoro, divisi in 40 ore a Brescia e 40 ore a Pesaro. Abbiamo scelto queste due città per dare modo a tutte le persone di potersi avvicinare, quindi il Nord e il Centro Italia. All'interno del corso si creeranno proprio dei percorsi di crescita, quindi la tecnica si acquisirà proprio lavorando su se stessi. E ci sarà anche un piccolo esame finale. E alla fine del corso verrà rilasciato un diploma? Sì, verrà rilasciato un diploma di formazione riconosciuto proprio dall'Associazione Violet. Grazie. Grazie a voi.